Ho voluto personalmente esprimere la mia vicinanza a Stresa perché in particolare questo bimbo che sta lottando per sopravvivere assomiglia molto alla mia situazione, ai bimbi di Auschwitz, privati dei genitori che dovevano combattere per la vita. Un incontro semplice, intenso, commovente, quello di oggi tra Lidia Maximovic, polacca di origini biellorusse, superstite ad Auschwitz e agli esperimenti di Mengele e il sindaco di Stresa Marcella Severino, con lei anche l'assessore Carla Gasparro. La signora Lidia nei giorni scorsi ha incontrato Papa Francesco, il santo padre, le ha baciato quel numero che stampato sul braccio quotidianamente ricorda l'orrore del campo, un gesto in memoria dei 200.000 piccoli morti ad Auschwitz. Lei stessa nell'incontro stresiano ha ripercorso quei 13 mesi di prigionia, aveva solo 3 anni, i bambini più forti come lei venivano mandati da Mengele, venivano uccisi con il fenolo, subivano trasfusioni, gli veniva messa una sostanza chimica negli occhi per farli diventare azzurri, tanti diventavano ciechi. Ricorda la mamma dalla quale era stata separata nel campo, di nascosto raggiungeva ogni tanto la baracca dei bambini per portarle un po' di cibo. Vedevo solo le sue mani, ha spiegato Lidia, le dicevo di non lasciarmi da mangiare ma di lasciarmi le sue mani. La mancanza della mamma era la sofferenza più grande, avevo 3 anni ma ricordo tante cose perché non si può dimenticare, ha spiegato. Ha ritrovato la madre 17 anni dopo. Oggi la sua missione è raccontare, lo ha fatto anche attraverso il docufilm La bambina che non sapeva odiare. Già perché anche oggi a stresa Lidia ha ribadito l'importanza del perdono. Non si può vivere con l'odio nel cuore perché l'odio distrugge. Noi dobbiamo ricordare tutto ma bisogna perdonare per andare avanti. La signora ha donato a sindaco e assessore il fazzoletto dei sopravvissuti, dall'amministrazione in dono due libri e candele benedette provenienti da Gerusalemme. Un momento importante che mi sarebbe piaciuto fare in qualsiasi momento della mia vita, ma oggi veramente la signora come un raggio di luce è arrivata nel momento più opportuno. Ho pianto, ho pianto con lei, più di lei. Questo dono è una cosa molto preziosa che terrò sempre con me, ma soprattutto il dono interiore che mi ha dato oggi il grande messaggio, il perdono e diffondere amore e non odio.